Fratelli nel Signore, oggi voglio parlarvi non tanto delle opere in se stesse, ma della forza delle opere e della forza che ci dobbiamo mettere nel compiere le opere. Oggi parleremo appunto di quello che è scritto in Matteo al capitolo 11, questo è il titolo. Matteo capitolo 11 al versetto 12 Questi versetti messi lì in questo passaggio biblico, in questa parte, mi hanno sempre scosso, devo dire che mi hanno sempre impressionato, ho detto ma come il Regno dei Cieli si prende con forza, noi ce ne possiamo appropriare, i violenti se ne impadroniscono. È chiaro che qui non sta parlando di una violenza che una persona compie contro altri uomini o donne, questo è chiaro. Però certamente questi passaggi biblici ci fanno pensare comunque a una forza che viene messa in campo, che si vede, a una forza che diventa anche violenta. Ci sono delle azioni, ci sono dei comportamenti che noi credenti dobbiamo mettere in atto che devono manifestare forza, potenza, devono essere fatti con un certo vigore, capite? Con forza, con violenza. E dopo andremo a vedere degli esempi di cosa si vuole intendere con forza e con violenza in questi passaggi biblici. Lo sappiamo, certamente le scritture presentano, diciamo, presenta la dottrina della predestinazione, che Dio provvede ogni cosa secondo la sua volontà, come Lui ha stabilito. Però questa è una parte del consiglio di Dio, che noi crediamo, accettiamo e conosciamo. Ma oggi parleremo invece di qualcosa che riguarda noi, tralasciando per un attimo la predestinazione, il fatto che Dio regna, che fa tutto ciò che Gli piace, e a Lui sia tutta la gloria. Tralasciando questo, ebbene, noi esaminiamo cosa ci chiede la scrittura, cosa ci fa sapere qual è quella forza, quella violenza che ognuno di noi deve mettere in atto, diciamo, per ricevere, per appropriarsi del Regno dei Cieli, per appropriarsi delle promesse dell'Idio vivente, per entrare in possesso affinché Dio gli doni, appunto, non per meriti, qui non stiamo parlando di meriti, ma stiamo parlando di quella forza che si deve mettere per andare davanti al trono della grazia, davanti a Dio, a prendere quello di cui ognuno necessita. E' questo, quindi, qui dobbiamo mettere in atto tutte quelle azioni che sono necessarie affinché noi ci appropriamo di quello di cui abbiamo bisogno, delle promesse dell'Idio vivente e vero. quindi dobbiamo compiere, compiere delle opere e queste opere non vanno solo compiute, ma oggi voglio parlarvi, appunto, non tanto delle opere in se stesse, ma della forza, capite, della forza che bisogna mettere nel compiere le opere, perché talvolta dobbiamo metterci forza e violenza, dobbiamo essere insistenti, dobbiamo essere insistenti oltre misura, dobbiamo, non dico stancare Dio in senso negativo, ma dobbiamo pressare Dio affinché ci doni e conceda al suo popolo, a noi, a chi noi desideriamo, quello di cui ha bisogno. E' questa forza, la forza che c'è nelle opere. Una forza, una forza molto importante, perché anche come dice Giacomo, se noi andiamo al capitolo 2 di Giacomo, parla, appunto, della fede e delle opere, vedete? Le opere, quindi, cosa manifestano? Manifestano la fede che noi abbiamo. Perché taluni dicono, ah, ma tu non sai cosa io ho nel cuore, ah, ma io l'importante è quello che abbiamo nel cuore. Ma certamente è importante quello che abbiamo nel cuore. Ma quello che noi abbiamo nel cuore, quello che noi abbiamo nei nostri pensieri, quello che c'è dentro di noi, e quello che noi aspiriamo, desideriamo, quello che vogliamo respirare nella nostra vita, lo manifestiamo esteriormente, con le nostre opere. Quindi io non posso vedere il cuore dei fratelli, è vero, ma io posso vedere le sue opere. E perché io dalle sue opere, dal leggere le sue parole, dall'ascoltare le parole di un fratello, io mi rendo conto cosa c'è dentro il suo cuore. Quindi le opere, le parole, sono importanti, sono importantissime, perché manifestano quello che uno ha dentro di sé. E devono esserci. Perché qui Giacomo dice, leggiamo al versetto 18, dice, 2,18 di Giacomo, Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede ed io ho le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Vedete? Con le mie opere io ti mostrerò la mia fede. Attenzione, qui non stiamo dicendo, come taluni citano questi passaggi di Giacomo, che dicono che praticamente si viene salvati per opere. Assolutamente no. Qui queste parole sono riferite a credenti che sono già salvati, capite? Quindi queste opere di cui stiamo parlando non servono per essere salvati. Ma qui Giacomo sta dicendo che servono per manifestare la fede che uno ha nel proprio cuore. Infatti al versetto 14, Giacomo 2,14 dice che giova, fratelli miei, e poi parla appunto, annunzia, parla della fede e delle opere. Quindi sta parlando a credenti già rigenerati, perché al versetto, capitolo 1, versetto 18, Giacomo aveva già preannunciato come si ottiene la salvezza attraverso la rigenerazione spirituale. C'è scritto, Giacomo dice Egli ci ha di Sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle Sue creature. Quindi la rigenerazione spirituale è quella che salva. Qui Giacomo sta parlando dell'importanza che deve esserci dopo essere credenti, cioè le opere. perché è dalle opere, è dal frutto che si riconoscono gli alberi buoni, è dalle opere che noi compiamo, non è solo dalle chiacchiere, dalle parole, ma è dalle opere che noi compiamo concretamente, perché con le nostre opere e anche con le nostre parole noi manifestiamo la nostra fede, noi manifestiamo quello che abbiamo nel nostro cuore. Se veramente noi siamo convertiti, siamo salvati, le nostre parole, le nostre opere, le nostre opere, la santificazione, la rinuncia ad amare questo mondo, perseveranza nella preghiera, digiunando, aiutando il nostro prossimo, non dicendo mai nessuna mala parola neanche contro i nostri nemici, non schernendo nessuno, non offendendo nessuno, anzi vincendo il male con il bene. Queste sono le opere che seguono alla salvezza, seguono alla salvezza, devono seguire. E queste opere devono essere fatte con forza. Oggi volevo appunto sottolineare che non solo, come dice Giacomo, dobbiamo compiere le opere che manifestano la nostra fede, ma dobbiamo anche compierle con forza e con violenza. Cioè, proprio come, questa è come una figura, che è come se noi potessimo andare davanti al trono della grazia e strappare dalle mani dell'iddio vivente quello di cui abbiamo bisogno, i doni che noi desideriamo e di cui abbiamo bisogno. Questa è la violenza, la forza di cui volevo parlarvi oggi. come se noi possiamo, dico come perché noi sappiamo che Dio regna, nessuno può strappargli niente, ma comunque la scrittura c'ha maestra che noi dobbiamo agire in questa maniera. Ogni cosa è già scritta, va bene, ma adesso stiamo esaminando, stiamo esaminando dal punto di vista quello che l'uomo deve fare. Non è che dobbiamo stare seduti ad aspettare che Dio operi. Noi dobbiamo sapere quello che Dio richiede da noi e lo dobbiamo fare. E non solo dobbiamo sapere che lo dobbiamo fare, ma lo dobbiamo fare con forza, con violenza, non fermandoci davanti a nessun ostacolo. C'è una montagna, piano piano ci mettiamo a smontarla, smontiamo la montagna, prendiamo pezzettino per pezzettino, questa montagna diminuisce e poi sparisce e noi passiamo oltre, capite? E questo oggi esaminiamo con determinati esempi. Andiamo ad esaminare quindi il primo esempio di questa forza e violenza che bisogna mettere in atto nel compiere le opere, nel compiere determinate opere che sono gradite a Dio, che sono gradite a Dio. Non una violenza che fa del male al prossimo, non una forza e una violenza che danneggia gli altri, no, no, neanche se stessi, ma una forza e una violenza che è positiva, che è una forza e una violenza messa in atto nel compiere determinate opere che manifestano quanto uno è convinto di una certa cosa, che è la pienezza di convinzione, dalla pienezza di convinzione che uno ha, ecco che seguono le opere, le opere che vengono fatte con una certa forza. dobbiamo andare a leggere il Vangelo di Marco, il Vangelo di Marco al capitolo 2. Capitolo 2, dal versetto 1, adesso parleremo dei passi che riguardano il paralitico di Capernaum. E dopo alcuni giorni egli entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa e si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta la poteva contenere. Ed egli annunziava loro la parola e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro e non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca scoprirono il tetto dalla parte dove era Gesù. E fattavi un'apertura calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva e Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Poi qui il racconto continua, comunque poi al versetto 11 di Gesù gli dice che dopo c'è una discussione tra Gesù e i farisei a riguardo di queste parole che Gesù ha detto che ha rimesso i peccati al paralitico perché Gesù poteva rimettere i peccati in quanto Gesù è Dio perché i peccati possono essere rimessi solo ed esclusivamente da Dio. Gesù li ha potuti rimettere perché Gesù è Dio. Quando era in carne era vero uomo e vero Dio. Quindi come Dio li ha potuti rimettere. rimettere. Poi al versetto 11 leggiamo Io te lo dico, disse al paralitico prendi, togli, levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E colui si alzò e subito prese il lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti. Talche tutti stupivano e glorificavano Dio dicendo una cosa così non la vedemmo mai. Cioè questo paralitico che non poteva neanche camminare, non poteva, era portato dai quattro, venne alla fine guarito. Infatti Gesù disse, leggiamo al versetto 5, 2,5 di Marco e Gesù veduta la loro fede disse al paralitico. Quindi per mezzo della loro fede diciamo che il paralitico fu guarito. Questa è la sostanza principale. Però come si arriva? Io voglio esaminare insieme a voi, voglio farvi notare alcune cose. come si è arrivato? Cosa si è manifestato? Cioè quali sono state quelle azioni che hanno portato Gesù a vedere la fede in quegli uomini. Capite? Ed è successo questo. Gesù era in Capernau, era dentro una casa. Tanta gente si radunò vicino a quella casa per udire Gesù. insieme a tutta questa gente andarono anche quattro persone che portavano in un lettuccio portavano un paralitico. Queste quattro persone sicuramente cercavano il modo di avvicinare il paralitico a Gesù. Perché cercavano di fare questo? Perché in loro era la convinzione, una piena convinzione che se riuscivano a presentare il paralitico davanti a Gesù questi sarebbe stato guarito. Avevano questa fiducia, questa certezza assoluta. Quindi è importante capire questo passaggio. Ma erano impediti, c'era tanta gente tutta attorno, vicino alle finestre, alla porta, dobbiamo immaginarci la scena, diciamo, quello che avveniva in quel luogo perché c'era tanta gente vicino a quella casa che ascoltava Gesù. ed era per questi quattro impossibile passare in mezzo alla gente, era impossibile far arrivare il paralitico davanti a Gesù passando per la porta o nei modi diciamo normali. Ma non si scoraggiarono questi quattro, non si scoraggiarono. Intanto notate bene che non era solo uno, erano in quattro, in quattro, quindi portare il peso di qualcuno in un certo numero se la Chiesa, se i fratelli e le sorelle portano il peso di qualcuno, la sua malattia, un suo bisogno, una sua necessità, qualsiasi cosa essa sia, se si mettono d'accordo, no? Vi ricordate quel passaggio che ha detto Gesù, quelle parole che ha detto Gesù? se due si mettono d'accordo a chiedere qualsiasi cosa al Signore, il Dio gliela darà, capite? Qui abbiamo quattro uomini che portano il peso e il dolore e la sofferenza di un paralittico e ci hanno davanti a loro delle problematiche, non riescono a portarlo davanti a Gesù, quindi si accertano, compiono una ricerca, compiono quelle azioni che gli serviva di sapere dov'era Gesù e salirono sopra il tetto, salirono sopra il tetto con il paralittico, con tutte le problematiche che c'erano, perché un paralittico appeso morto, una persona quasi appeso morto, trasportarlo non è così semplice, quindi si organizzarono, salirono sopra il tetto, cosa fecero? Cosa fecero? Anche a scapito, rischiando anche che il proprietario di quella casa li sgridasse o in qualche maniera cercasse di fermarli, hanno cominciato a scoperchiare il tetto, vedete, non si sono fermati davanti a nulla, ma la vedete questa forza, questa violenza che esprimono questi quattro? E questa è la forza e la violenza che io volevo mostrarvi, in questi passaggi biblici c'è proprio un esempio preciso della forza e della violenza che bisogna che il credente metta in atto per portare i suoi problemi, i suoi bisogni oppure il problema è il bisogno di un fratello che tutti insieme a volte dobbiamo portare i carichi gli uni degli altri, ma con convinzione di pari consentimento perché i quattro sollevare quell'uomo fino al tetto, scoperchiarlo e poi farlo scendere davanti, lo calarono davanti a Gesù, quindi per compiere queste cose bisogna essere coordinati, bisogna essere di pari consentimento, capite? Bisogna essere uniti, di pari consentimento e bisogna agire all'unisono, così deve agire la Chiesa, così devono essere i credenti, devono avere un cuore solo, devono agire, operare come se fossero una persona sola, naturalmente operare, agire, pensare secondo quanto è scritto nella parola di Dio, non secondo quanto dice un uomo o un'organizzazione, l'unità deve esserci nella parola, la comunione deve essere nella parola, nella verità, nello Spirito Santo, non può esserci comunione in una organizzazione con i dettami di quella organizzazione, qui si parla di una comunione tra fratelli che è basata sullo Spirito Santo e sulla parola di Dio, è questa la nostra base, è questo che deve unire i credenti, non un regolamento, non un tesserino, non un registro sul quale siamo scritti, l'unica cosa che conta è che noi siamo stati iscritti nel libro della vita, quello conta, siamo iscritti là, lo Spirito Santo ci guida, la parola illumina il sentiero che dobbiamo percorrere, di che cos'altro abbiamo bisogno? Ci prendiamo per mano noi tutti insieme e camminiamo, e portiamo i pesi, talvolta abbiamo questa necessità, abbiamo questo obbligo talvolta di portare i pesi gli uni per gli altri perché il paralitico lì davanti a Gesù da solo non sarebbe mai potuto arrivare, non sarebbe mai potuto arrivare da solo, c'era bisogno che un gruppo di persone, che queste quattro persone lo portassero davanti a Gesù, quindi in queste quattro persone oltre la fede che Gesù vede in loro, io vedo anche quella forza, quella violenza, quel pari consentimento, quel cuore che non si ferma davanti a nulla pur di ottenere questa grande guarigione di Dio che può essere anche una liberazione, può essere un lavoro, può essere una moglie, può essere un marito, può essere quello di cui uno ha bisogno, lo presenta davanti a Dio, naturalmente devi arrivare, devi portare il tuo problema davanti a Gesù, il tuo problema deve arrivare davanti a Gesù, ma se tu non ti inginocchi mai, se tu non ti inginocchi mai fratello o sorella e non porti il tuo problema davanti al Signore, davanti al trono della grazia, questo non potrà essere guarito, liberato o non potrai ottenere quello di cui hai bisogno, quindi dobbiamo sforzarci di usare quella forza, quella violenza che usarono anche questi quattro che portarono il paralitico per metterlo davanti, il problema fu posto davanti a Gesù e Gesù come ha reagito? Dopo aver visto tutto quello che hanno compiuto queste persone, Gesù disse veduta la loro fede, Gesù dalle loro azioni, dal loro comportamento, vide che avevano fede, vedete a che cosa si riferiva Giacomo quando diceva io con le mie opere vi mostrerò la mia fede? È questo che voleva dire, perché le nostre opere mostrano la fede che noi abbiamo e in questo caso c'è stata anche una certa forza, una certa violenza con cui questa fede si è manifestata, che hanno scoperchiato addirittura il tetto di quella casa per poter arrivare a ottenere quello di cui avevano bisogno. e l'hanno ottenuta. Sicuramente avranno pagato i danni, avranno ricoperto la casa, non importano le conseguenze. Quello che importava lì era prendere con forza il dono del Regno dei Cieli che era la guarigione in quell'occasione, in quel momento. Ed è stata presa, è stata ottenuta, ma vedete come quei quattro sono andati a prendersela quella guarigione? Talvolta vediamo che è Gesù, è Gesù, e lì vediamo fortemente la predestinazione, no? È Gesù che cerca il malato come quello nella piscina di Bethesda, cerca quel malato e lo guarisce. Il malato rimane lì, era lì fermo e Gesù lo cerca e lo guarisce. Ma in questo caso, vedete, invece il contrario, sono queste persone che sono andate a Gesù per ottenere quello di cui hanno bisogno. E oggi parliamo appunto di questo, perché è vero che Gesù cerca il malato per guarirlo, ma è anche vero che in altri passi è scritto che tu se sei malato devi andare a prenderti la guarigione. Se tu hai bisogno di qualcosa te la devi andare a prendere, gliela devi strappare dalle mani quella cosa di cui tu hai bisogno con forza, con violenza. Quindi c'è sia una parte del consiglio di Dio e sia l'altra quello che noi dobbiamo fare. Quindi non cadiamo in quei discorsi che ci fanno taluni, ah ma se voi siete predestinati cosa c'è? Non dovete fare nulla. No, assolutamente, queste sono chiacchiere di gente che non ha capito nulla. Allora, noi annunziamo la predestinazione che Dio fa tutto ciò che gli piace, ma noi ci esortiamo gli uni gli altri anche a compiere le opere, anche a fare il bene, tutto quello che la scrittura ci dice che dobbiamo fare. Non è che ci fermiamo seduti nel divano a non fare nulla, non è questo che il Signore ci richiede anche se il Dio regna e compie il volere e l'operare dentro ognuno di noi. Però ci dobbiamo esortare a compiere le opere, a compiere tutte quelle opere che sono scritte nella parola di cui ognuno di noi poi ha bisogno. Di certe cose noi abbiamo bisogno che il Signore ce le dia. Allora, cosa dobbiamo fare per ottenerle? Ecco, una delle cose che si può fare è andare a prendersele. Ne ho bisogno ma le vado a prendere con forza e con violenza. Questo era il primo dei passaggi e adesso ne leggiamo un altro, un'altra forza, un'altra violenza messa in atto. Qui dobbiamo andare nel Vangelo di Matteo al capitolo 15. Capitolo 15 versetto 21 leggiamo queste parole. E partitosi di là Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone. Quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare Abbi pietà di me Signore figlio di Davide la mia figliola è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. e i suoi discepoli accostattosi lo pregavano dicendo licenziala perché ci grida dietro. Ma egli rispose io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò dinanzi dicendo Signore aiutami. Ma egli rispose non è bene prendere il pane dei figlioli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse dici bene Signore eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse oh donna grande è la tua fede e ti sia fatto come vuoi. E da quell'ora la sua figliola fu guarita. Qui abbiamo un altro caso. Gesù fu mandato alle pecore perdute di Israele una donna cananea che non era del popolo di Israele gridava dietro Gesù vedete con quanta forza c'è scritto che gridava cosa gridava questa donna? Questa donna gridava che poi dava fastidio a tutti i discepoli questa donna che grida ci grida dietro Signore licenziala ci grida dietro ci sta dando fastidio questa donna. allora questa donna si mise a gridare e cosa gridava? Gridava abbi pietà di me Signore figliol di Davide quindi queste parole fanno comprendere che quella donna sapeva a chi si stava rivolgendo quindi sapeva chi era Gesù era il figliol di Davide Signore figliol di Davide e aveva un problema la sua figlia era tormentata da un demonio quindi conoscendo chi era Gesù lei aveva capito che Gesù poteva liberare la sua figliola per amore della sua figliola per la liberazione della sua figliola gli andò dietro e gridava perché sicuramente Gesù era attorniato sempre da delle persone e questa donna gridava anche se era cananea non era neanche ben vista dai giudei che erano lì attorno a Gesù e tutti sicuramente la maltrattavano infatti i suoi discepoli dissero licenziala come dire toglila di mezzo cioè fai in modo che sia tolta di mezzo perché ci sta dando noia ci sta dando fastidio col suo gridare ma questa donna riuscì ad arrivare a Gesù e gli si prostrò dinanzi e questa donna ha detto ha detto Signore aiutami voleva aiuto dal Signore guardate cosa gli risponde Gesù Gesù la mette alla prova in un certo senso fa un discorso anche spregiativo nei confronti dei gentili perché le dice non è bene prendere il pane dei figlioli per buttarlo ai cagnolini non è bene vedete cosa gli dice Gesù c'è come la paragona uno dei cagnolini a dei cani infedeli sono paragonati i gentili quelli che non erano ebrei molti magari arrivati a questo punto si sarebbero sentiti offesi e si sarebbero girati e sarebbero andati via questa donna invece no questa donna sfodera una sapienza che dopo Gesù apprezza perché in un altro punto dice oh donna per cotesta tua parola quindi il centro di tutto questo passaggio che fa scattare la liberazione della sua figliola è nella parola che questa donna ha usato e la parola è questa dici bene signore quindi Gesù benché abbia pronunciato quelle parole in un certo senso anche che potevano essere prese a male da questa donna gli ha detto no tu dici bene e ha aggiunto queste altre eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni riconosce la sua inferiorità riconosce il suo bisogno riconosce che lei è quello che è veramente come un cagnolino però ha bisogno di quel minuzzolo gli basta quel minuzzolo quella piccola parte che già è sufficiente lei ha capito che è sufficiente per ottenere la liberazione capite un minuzzolo di pane ed è per questa parola che si è manifestata in lei la fede che Gesù ha visto la fede attraverso la parola detta da questa donna e Gesù gli ha detto ti sia fatto come vuoi e la sua figliola fu liberata dal demonio vedete quindi questa donna prima andava dietro a Gesù che gridava poi Gesù stesso cerca di allontanarla perché Gesù non ha fatto altro che cercare di allontanarla e dire io sono impegnato col popolo di Israele quindi non posso perdere tempo con voi gentili per adesso non posso perdere tempo con i cagnolini ma non ha mollato la presa questa donna ha continuato ha utilizzato quello di cui c'era bisogno per per ottenere quello di cui aveva bisogno cioè la liberazione della sua figliola ha perseverato sino ad ottenimento di quello di cui aveva bisogno non si è scoraggiata vedete cioè anche se sembrava che tutti gli uomini erano contro di lei va bene contro questa donna erano quelli tutti i giudei erano contro di lei lo stesso Gesù ha cercato in qualche maniera di toglierla di mezzo con le parole ma lei non si è fermata ha accettato il discorso di Gesù ma lo ha diciamo ha aggiunto vedete ha usato anche sapienza cioè ha usato con la sua parola una capacità di convincimento ecco questo è quindi quando si va a Dio quando si va a Gesù ricordatevi che non solo dobbiamo andare con forza e compiere le nostre opere con forza ma anche quando parliamo dobbiamo essere convincenti quando preghi devi essere convincente devi farlo in una tale maniera che le tue parole dovrebbero spaccare ogni pietra di separazione ogni muro di separazione cioè il Dio deve approvare le tue preghiere non puoi ripetere delle preghiere a pappagallo delle preghiere a memoria senza metterci il cuore ci deve essere tutto il tuo cuore che deve essere riversato quando tu preghi Dio per ottenere qualcosa una liberazione una guarigione da Dio tu devi mettercela tutta quando vai in preghiera al Signore tu vai là per prendere quello di cui hai bisogno in quel momento capite quello che sto cercando di comunicarvi e questo è il sentimento che vi deve muovere in quel momento quando si va in preghiera a Dio poi che il Signore non ci esaudisce subito non fa niente hai gridato una volta poi griderai anche dopo griderai ancora fino a quando ti prostrerai davanti a Gesù e non potrà fare a meno che darti quello di cui tu hai bisogno quello che tu desideri quello che tu ricerchi ma lo devi fare con forza con pienezza di convinzione le cose vanno fatte perché sentite nel proprio cuore non così perché le sentiamo dire agli altri le diciamo anche noi perché le fanno gli altri le facciamo anche noi no deve provenire dalla profondità del tuo cuore non dal dal vedere gli altri guardare gli altri come si comportano e come parlano va bene perché si impara ma io poi devo andare ad approfondire attraverso la parola e attraverso una esperienza personale ogni cosa la devo fare mia interiormente se una sorella vede un'altra sorella che prega con il velo ah vabbè qui si usa il velo lo metto no tu devi farlo perché tu capisci quello che stai facendo tu devi studiare perché devi usare il velo tu devi studiare se è volontà di Dio come abbiamo anche già studiato il saluto cioè tutti salutano con la pace ma quanti sanno perché si deve salutare con la pace del Signore capite è questo che bisogna bisogna comprendere non bisogna bisogna guardare i fratelli magari più anziani più maturi che ci danno quelli che ci danno un buon esempio da seguire cercare di imitarli ma non imitarli bovinamente così perché quello fa così e faccio così anch'io no dobbiamo capire poi andare alla scrittura pregare che Dio ci faccia comprendere e faccia penetrare dentro il nostro cuore quella pienezza di convinzione di cui noi abbiamo bisogno per fare ogni cosa non solo una cosa ma ogni cosa quindi è importante che quello che noi facciamo lo facciamo perché interiormente lo sentiamo siccome quella donna è una madre che ha un problema ma quindi diciamo che le madri soffrono anche i padri non è che non soffrono i padri però una madre che vede una figlia soffrire credo che sia una rappresentazione di dolore massima lì c'è un genitore che vede una figlia soffrire essere tormentata e quindi ha reagito ha messo in atto tutto quello che poteva fare quella donna gridava ha cercato di arrivare a Gesù gli si è prostrato davanti aveva riconosciuto chi era Gesù figlio di Davide gli ha chiesto aiuto benché respinta in una volta ha insistito fino ad ottenimento di quello di cui aveva bisogno ha insistito non si è fermata non so se vedete questa forza questa violenza in questo caso era una violenza piena di sapienza di intelligenza nella parola nella parola ha cercato di convincere Gesù e c'è riuscita c'è riuscita questa donna è riuscita a convincere il Signore Gesù Cristo a cacciare via il demonio dalla sua figlione è questo che ognuno di noi deve cercare di fare nelle opere nella parola nei propri sentimenti in tutto quello che noi facciamo ci dobbiamo mettere quella forza quella pienezza di convinzione che è necessaria che gli altri devono vedere questo è un cristiano bisogna che si veda fratelli e sorelle deve vedersi in tutto quello che noi facciamo altrimenti cosa siamo che alberi siamo né buoni né cattivi tiepidi dobbiamo dobbiamo portare frutto il frutto che dobbiamo portare deve essere un frutto buono quindi lasciamo stare tutto il mondo i divertimenti perché tutte queste cose guardate bene rallentano fanno spegnere questa convinzione e le opere capite l'amore per il mondo spengono queste luci che sono la pienezza di convinzione che possiamo avere dentro di noi e la potenza e la forza nel compiere le opere le spengono ecco perché perché dobbiamo essere santi ecco perché ci dobbiamo santificare dobbiamo stare concentrati nella volontà di Dio dobbiamo stare concentrati nello studio della parola dobbiamo rigettare tutto quello che ci distrae tutto quello che ci distrae dall'opera che Dio ci chiama ogni giorno a fare attenzione tutti i cristiani sono chiamati a fare qualcosa quindi chi è una cosa chi è un altro ma siamo chiamati tutti a fare ad esempio a cominciare dalla preghiera dello studio della parola io oppure anche altri fratelli che hanno studiato anche più di me prima di parlare hanno studiato tanti anni inginocchiati a studiare la parola di Dio cioè non è che sentite un dottore della parola parlare quello parla con diciamo con pienezza di convinzione e con sapienza e con intelligenza e con la conoscenza della parola parla così perché dall'oggi al domani si sia creato in lui questa conoscenza ciò è possibile perché ha piegato le ginocchia per anni ha studiato la parola per anni ha meditato ha pregato il Dio del continuo e quindi anche voi anche noi se vogliamo servire il Signore se vogliamo stare dentro la volontà del Signore nella sua volontà perfetta se vogliamo piacere al Signore e poi servire nella Chiesa secondo l'opera che Dio dà a ciascuno lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare perché ci stiamo impegnando perché stiamo lavorando capite non dobbiamo stare seduti nel divano a non fare nulla ma dobbiamo aver compiuto tutti i nostri doveri ogni giorno a cominciare dalla preghiera a cominciare dallo studio della parola poi chi c'è vicino a casa nostra ci sono dei fratelli delle sorelle bisognose ci sono degli anziani da andare a trovare ci sono delle donne incinte da aiutare ci sono degli infermi da andare a trovare c'è qualcuno a cui posso dare un bicchiere d'acqua un pezzo di pane qualcosa c'è qualcuno vabbè io non ho i soldi non ho pane non ho acqua e allora mi inginoccherò a pregare che qualcuno gli dia il pane l'acqua è quello di cui ha bisogno però bisogna che queste cose siano fatte messe in atto e siano fatte non solo a chiacchiere fratello ti amo molti dicono fratello sorella io ti amo e poi all'atto pratico come diceva Giacomo come dice Giacomo fanno proprio così questa gente se voi leggete Giacomo Giacomo ha già detto come si comportano certuni e oggi sono molti quelli che fanno così versetto 2.15 di Giacomo se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano e un di voi dice loro andatevene in pace scaldatevi e sattollatevi ma non date loro le cose necessarie al corpo che giova cioè in pratica se io dico fratello io ti amo ma tu stai morendo di fame non hai neanche una giacchetta per metterti e fuori c'è un freddo che non si può stare e ti dico vai vai a riscaldati fratello pace io ti amo tanto che Dio ti benedica vai e tu te ne esci fuori al freddo e stai là ma che cosa serve questo cosa serve una religione così a cosa serve che io vado tutti i giorni al culto o faccio altre cose per il Signore a cosa serve se non faccio le cose minime non serve niente davanti a Dio viene rigettato tutto perché non si fanno le cose che Dio ci chiede di fare perché se ci mette davanti un fratello che ha bisogno di un bicchiere d'acqua e non glielo diamo tutto il resto a cosa serve non serve niente noi dobbiamo compiere le opere che Dio ci mette davanti ora andiamo a leggere un altro caso un altro caso sempre in cui si manifesta una certa forza una certa violenza per ottenere qualcosa qualcosa da Dio dobbiamo andare in Matteo al capitolo 20 al versetto 29 i ciechi di Gerico e come uscivano da Gerico una gran moltitudine lo seguì ed ecco che due ciechi seduti presso la strada avendo udito che Gesù passava si misero a gridare abbi pietà di noi signore figliol di Davide ma la moltitudine li sgridava perché tacessero essi però gridavano più forte abbi pietà di noi signore figliol di Davide e Gesù fermatosi li chiamò e disse che volete che io vi faccia ed essi signore che si aprano gli occhi nostri allora Gesù mosso a pietà toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista vedete quindi cosa fecero questi ciechi Gesù stava passando questi ciechi erano fermi perché essendo ciechi non è che avevano una libertà di movimento erano lì fermi però udirono che passava Gesù cosa potevano fare erano impediti nei movimenti erano bloccati cosa potevano fare potevano solo gridare e hanno gridato hanno fatto quello che potevano fare per farsi sentire dal signore si misero a gridare abbi pietà di noi signore figliol di Davide vedete quindi così anche noi dobbiamo gridare al signore nelle nostre preghiere signore abbi pietà di noi donaci questo e quest'altro ma lo dobbiamo fare con piena fiducia gridare gridare con una certa forza non non gridare con una forza nel senso che ci devono sentire a chilometri qui la forza da esprimere è nella convinzione capite noi gridiamo con convinzione non un alzare la voce in maniera isterica come sentiamo come si sente magari in certe comunità che pensano di essere esauditi perché alzano il volume della voce a tal punto ma poi dal fastidio che tu avverti si capisce che non sono grida spirituale non è questo che sto dicendo loro lì hanno dovuto gridare perché c'era la calca di gente che seguiva Gesù e hanno dovuto gridare per farci sentire e noi dobbiamo gridare per farci sentire da Dio in preghiera quindi non è che sente la voce il signore nel senso che senti anche la voce ma ci sente anche se noi non è che gridiamo forte da farci sentire a centinaia di metri ci sente anche se noi diciamo muoviamo solo le labbra nella nostra preghiera fatta in segreto nella nostra cameretta però come la facciamo questa preghiera con convinzione come la facciamo è quella la forza è quella la forza che si deve esprimere e questi avevano un problema erano ciechi vedete oltre il fatto che dovevano farsi sentire da Gesù quindi avevano un problema avevano un problema ma c'erano anche guardate cosa c'è scritto qui al versetto 31 c'è scritto ma la moltitudine li sgridava perché tacessero essi però gridavano più forte infatti non so se vi è mai capitato quando voi aspettate una promessa di Dio quando voi avete una certa fede in Dio ci sono quelli che vengono e vi dicono ma no fratello che non è più per te non è il signore ma prendi una medicina la guarigione non è più per te Dio oggi ha stabilito le medicine i dottori e altro questi non sono altro che questa moltitudine che sgrida questi due ciechi che vogliono essere guariti però l'insistenza l'insistenza di questi due ciechi li ha fatti arrivare alla guarigione quindi non hanno dato ascolto a questa moltitudine che li sgridava finché tacessero no hanno gridato più forte hanno gridato più forte a Dio ed ecco che il signore quando li ha uditi finalmente Gesù li ha uditi e gli disse li chiamò capite li udì e poi Gesù li chiamò e disse che volete che io vi faccia e quindi dobbiamo arrivare al punto dobbiamo arrivare al punto che il signore ci dia quello che noi abbiamo bisogno che volete che io vi faccia e questa è una domanda che volete voi dal signore che vuoi tu fratello da Dio che cosa vuoi tu sorella che cosa vuoi dal signore fai la lista fate la lista di quello che volete dal signore e andate a chiederlo andate a chiederlo signore io voglio questo e lo vai a prendere e devi insistere devi gridare più forte anche se tutto quello che attorno a te ti combatte ti vuole atterrare poi il signore ti darà quello quello che lui ritornerà opportuno di darti chiaro però però comunque gradirà questa tua opera di insistenza per ottenere per ottenere quello di cui tu hai bisogno perché il signore ancora oggi ci dice che cosa vuoi che io ti faccia e allora dillo no e come vanno dette queste cose al signore con le ginocchi a terra la faccia a terra con le lacrime agli occhi alzando le mani al cielo e gridando per ore faccia a terra inginocchiati a gridare io desidero questo che cosa vuoi che il signore faccia per te allora mettiti l'impegno e domandagli con insistenza del continuo e dopo che gli ha detto questa domanda essi risposero loro erano ciechi avevano bisogno di vedere e gli dissero signore che si aprano gli occhi nostri allora Gesù mosso a pietà toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono capite quindi dobbiamo arrivare al punto in cui in cui siamo veramente davanti al signore con tutto il cuore e sentire proprio il signore che ci dice che cosa vuoi che io ti faccia sentire proprio nel nostro cuore che la pietà di Dio ci abbraccia ci tiene ci tiene aggrappati la pietà e la misericordia di Dio sentirla proprio nella profondità del nostro cuore ecco allora quando arrivi a sentire questo chiedi quello che vuoi che il signore te lo darà se sarà per il tuo bene chiedi però devi arrivare a commuovere a pietà il nostro Dio quindi non ti devi fermare davanti a nessuna difficoltà anche quando gli altri uomini ti combatteranno ti scoraggeranno cercheranno di farti cadere cercheranno di distrarti dall'obiettivo che tu ti sei posto ma pure pure tu non ti devi far scoraggiare perché attenzione questa è la tua prova come il popolo di Israele vagò per il deserto per quei quarant'anni affinché Dio li mettesse alla prova li ha messi alla prova allora anche noi oggi il signore non ci esaudisce per le cose di cui abbiamo bisogno perché ci sta mettendo alla prova ma noi insistiamo non ci scoraggiamo mica non ci dobbiamo scoraggiare insistiamo sino alla fine sino alla fine fino a quando o noi ci dipartiamo o il signore ci esaudisce queste sono le cose i punti sono questi oppure Dio ci dice no questa cosa non è per te allora quel punto come disse anche a Paolo che chiedeva di allontanare da lui quell'angelo di Satana che lo schiaffeggiava ma Dio gli disse di no la mia grazia ti basta quindi quel no dopo Paolo non ha potuto pregare più perché perché quello lì quel fatto lì lo manteneva umile perché aveva ricevuto grandi rivelazioni da Dio e quindi c'era il pericolo di inorgoglirsi allora aveva bisogno che Dio intervenisse per mantenerlo umile quindi vedete quella sofferenza che Dio provocava in Paolo era per il suo bene non era per il suo male capite c'è una sofferenza fisica o spirituale anche di sentimenti però è per il tuo bene perché è quella sofferenza che ti tiene più legato a Dio senza quella sofferenza magari saremo slegati da Dio e ce ne andremo a vivere nel mondo con i piaceri di questa vita allora ben vengano le sofferenze ben vengano le prove che ci tengono sotto pressione e che ci caricano di più per andare a Dio con forza con veemenza con violenza per ottenere quello di cui abbiamo bisogno questo dobbiamo mettere in atto questa forza nel compiere le opere perché badate bene che noi non abbiamo ricevuto uno spirito di timidezza noi abbiamo ricevuto lo spirito santo uno spirito di forza e di potenza Gesù ha detto riceverete potenza lì era riferito al battesimo con lo spirito santo ma lo spirito santo è già potenza una certa misura di potenza c'è già anche in coloro che hanno lo spirito santo ma non hanno la pienezza hanno comunque una misura di potenza quindi bisogna manifestare quella misura di potenza di forza manifestare quella forza di cui il credente deve essere pieno voglia di fare di forza non stare fermo seduto senza fare nulla quindi come i ciechi di Gerico non dobbiamo scoraggiarci davanti agli uomini che cercano di fermarli perché vedete questa è una lotta che noi dobbiamo fare noi dobbiamo lottare del continuo per parlare di lotta vi ricordo quello che è scritto in Genesi Genesi al capitolo 32 al versetto 24 mentre Giacobbe tornava da suo suocero Labano e tornava ad incontrare nelle zone dove viveva suo fratello Esau però temeva che Esau gli portasse ancora odio perché è riuscito a strappare le benedizioni di Isacco le benedizioni che Isacco ha dato a Giacobbe che aspettavano al primo genito che era Esau ma siccome Esau vendette la sua primo genitura per un piatto di lenticchie e Dio ha fatto in modo che queste benedizioni di Isacco scendessero sopra Giacobbe e non sopra Esau ed Esau ce l'aveva con Isacco Isacco se ne è dovuto andare scusate ce l'aveva contro Giacobbe Giacobbe se ne è dovuto andare perché temeva per la sua vita poi a un certo punto è tornato e temeva appunto temeva di nuovo di incontrare Esau perché temeva che ce l'aveva ancora con lui mentre tornava sono successi questi fatti quindi leggiamo adesso capitolo 32 di Genesi al versetto 24 Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba e quando questo uomo vide che non lo poteva vincere gli toccò la commessura dell'anca e la commessura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui e l'uomo disse lasciami andare che spunta l'alba e Giacobbe non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto e l'altro gli disse qual è il tuo nome ed egli rispose Giacobbe e quello disse il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini ed hai vinto e Giacobbe gli chiese De palesami il tuo nome e quello rispose perché mi chiedi il mio nome e lo benedisse Quivi e Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse ho veduto il Dio a faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata vedete cos'era successo vicino a Peniel vicino al fiume vicino al fiume Giordano Giacobbe incontrò questa persona che incontrò con cui lottò badate bene non era il padre bene non era Dio padre quindi chi poteva essere non era lo spirito santo però era Dio ecco quindi possiamo dire che era Gesù era Gesù cioè Giacobbe si mise a lottare per una benedizione si mise a lottare con Gesù si mise a lottare con l'Eterno e badate bene qui dice che Giacobbe dice non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto non ti lascerò andare Giacobbe non era intenzionato a mollare l'ha presa a mollare la lotta attenzione non è che Dio Dio potesse rimanere schiacciato dalla forza di Giacobbe è chiaro questo ma ha il suo senso cioè il suo senso spirituale no? cioè per ottenere talvolta per ottenere una benedizione da Dio per ottenere un esaudimento delle nostre richieste qualcosa che noi desideriamo dobbiamo lottare molto con Dio dobbiamo lottare contro Dio contro quel silenzio contro il fatto che non sentiamo che Lui ci vuole esaudire ci vuole dare quello di cui abbiamo bisogno dobbiamo lottare ma verrà il momento in cui Dio poi ci esaudirà capite? quindi è una lotta contro gli uomini e anche contro Dio talvolta infatti a Israele a Giacobbe gli fu cambiato il nome gli fu detto poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e questo è proprio quello che dobbiamo fare noi lottare contro tutti quegli uomini come hanno fatto i cecchi di Gerico come ha fatto anche la donna Cananea dobbiamo lottare contro tutti quegli uomini che si mettono davanti a noi e ci vogliono far deviare dal cammino dal cammino della strada maestra e poi dobbiamo lottare anche contro Dio perché talvolta sembra come ha fatto Gesù che gli ha detto alla donna Cananea che non lo avrebbe esaudita ha fatto capire in un primo momento che non l'avrebbe esaudita e noi dobbiamo lottare contro Dio dobbiamo insistere dobbiamo gridare sempre più forte per ottenere quello di cui abbiamo bisogno vedete quanta violenza ha usato Giacobbe lo vedete questa è la forza e la violenza che i credenti devono mettere in atto una forza una violenza a cui Dio non deve riuscire a resistere dobbiamo impietosire nostro Dio dobbiamo insistere in una tale maniera in una tale maniera che Dio non deve resistere ci deve esaudire in quello che noi ricerchiamo e desideriamo questa è la forza la violenza da mettere da mettere in atto lottare lottare anche contro Dio contro Dio nel senso che non ci esaudisce dobbiamo insistere insistere attenzione all'insistenza che poi Gesù parla di queste di questa insistenza davanti a Dio in diverse maniere ad esempio prendiamo al Vangelo di Luca prendiamo la vedova e il giudice iniquo al capitolo 18 leggiamo queste parole 18 1 propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi in una certa città vi era un giudice che non temeva il Dio né aveva rispetto per alcun uomo e in quella città vi era una vedova la quale andava da lui dicendo fammi giustizia del mio avversario ed egli per un tempo non volle farlo ma poi disse fra sé benché io non temai Dio non abbia rispetto per alcun uomo pure poiché questa vedova mi dà molestia le farò giustizia che talora a forza di venire non finisca con rompermi la testa e il Signore disse ascoltate quel che dice il giudice iniquo e Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui e sarà egli tardo per loro io vi dico che farà loro prontamente giustizia vedete c'era questa vedova no? Gesù racconta questa parabola con un obiettivo ben preciso che è questo che bisogna continuare a pregare con perseveranza senza stancarsi questa donna vedova che è l'esempio che dobbiamo avere noi per le nostre preghiere andava sempre davanti a questo giudice iniquo e gli diceva fammi giustizia batteva i pugni no? immaginiamocela in questa maniera batteva i pugni sul tavolo tu giudice che sei messo lì per rendere giustizia fammi giustizia perché sicuramente aveva ricevuto delle ingiustizie e questa vedova andava dal giudice che era preposto per amministrare la giustizia ma era un giudice iniquo un giudice che non praticava la giustizia un giudice che non faceva giustizia però a forza di andare a forza di andare a forza di insistere batte bene cosa dice questo giudice iniquo attenzione qui stiamo parlando di un giudice iniquo le parole di cui Gesù ha detto di fare attenzione ascoltate le parole del giudice iniquo sono queste benché io non temai Dio non abbia rispetto per alcun uomo pure poiché questa vedova mi dà molestia le farò giustizia che talora a forza di venire non finisca con rompermi la testa cioè aveva capito questo giudice che questa donna era così determinata così decisa che aveva mostrato una tale forza una tale violenza che temeva pure di avere che gli rompesse la testa capite è chiaro noi che vogliamo giustizia i santi che vogliono sai voi sapete che noi credenti a volte siamo trattati ingiustamente siamo maltrattati siamo trattati come la feccia di questa terra e noi gridiamo giustizia a Dio noi non è che ci dobbiamo fare giustizia da noi stessi dobbiamo gridare che Dio ci faccia giustizia è questo che sta dicendo che sta cercando di farci comprendere Gesù oltre al fatto che bisogna insistere nella preghiera con costanza ma la giustizia viene fatta arriva il momento in cui giustizia sarà fatta ma ora consideriamo ma se un giudice iniquo con l'insistenza è stato piegato quindi gli ha fatto giustizia e lui era un giudice iniquo ma tanto più il nostro Dio che è nel cielo che è un giusto giudice è giusto il nostro Dio ma tanto più il nostro Dio che è lassù nei cieli ci renderà giustizia se noi gli chiediamo giustizia capite quindi dobbiamo andare a lui con piena fiducia solo che qui la scrittura ci dice che dobbiamo insistere dobbiamo farlo con insistenza con forza sempre vedete con forza e con violenza c'è sempre quella forza quella violenza che manifesta la determinazione che una persona ha nel chiedere a Dio nell'andare al Signore per ottenere qualche cosa c'è sempre una forza particolare una forza di cui abbiamo visto in Matteo che dice che il regno dei cieli è preso a forza cioè i doni celesti quello che Dio ha preparato per il suo popolo bisogna che sia preso e noi ci dobbiamo applicare per prendere dobbiamo mettere in atto tutti quei comportamenti per riuscire a ottenere quello di cui abbiamo bisogno qui la vedova aveva bisogno di giustizia quindi anche quando noi subiamo delle ingiustizie quando ci fanno soffrire quando altri ci maltrattano ingiustamente perché se ci maltrattano giustamente non possiamo pretendere che Dio ci faccia giustizia però noi sappiamo che Dio ci renderà giustizia ecco perché Dio è un giusto giudice ma se anche con l'insistenza un giudice iniquo per la molestia che gli dava quella persona quella vedova ha praticato la giustizia figuriamoci il giusto giudice quanto sarà pronto quanto sarà pronto per rendere giustizia ai santi ai suoi figlioli che gridano a lui un altro caso sempre simile a questo lo vediamo sempre in Lucca al capitolo 11 che leggiamo queste parole allora intanto al capitolo 11 ai primi versetti i discepoli praticamente chiedono a Gesù di insegnargli a pregare e poi il Signore gli dice la preghiera del Padre Nostro e dopo dice queste parole dal versetto 5 dice poi disse loro se uno din fra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice amico prestami tre pani perché mi è giunto di viaggio in casa un amico e non ho nulla da mettergli dinanzi e se colui dal di dentro gli risponde non mi dare molestia già è serrata la porta e i miei fanciulli sono mecco a letto io non posso alzarmi per darte io vi dico che quando anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico pure per la importunità sua si leverà e gliene darà quanti ne ha di bisogno io altresì vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete picchiate e vi sarà aperto poiché chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia e chi è quel padre tra voi che se il figliolo gli chiede un pane gli dia una pietra o se gli chiede un pesce gli dia invece una serpe oppure anche se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli quanto più il vostro padre celeste donerà lo spirito santo a coloro che glielo domanda allora tutto il capitolo questa parte dal capitolo 11 versetto 1 fino al 13 riguarda in modo particolare la preghiera perché gli chiesero i discepoli a Gesù di insegnargli a pregare e Gesù disse tutte queste parole appunto per guidarli e insegnare loro la preghiera intanto gli ha messo davanti quella figura di quell'uomo che va a chiedere i pani a mezzanotte quindi in un momento sbagliato va a chiedere a un amico in un momento sbagliato quello non voleva dargli ma pure per la sua insistenza vedete di nuovo un'altra persona che gli provvede il necessario che gli è stato chiesto non tanto perché gli è amico ma perché ma perché per la molestia che gli ha dato per l'importunità sua ma ora ma se Gesù dice ma se quel giudice iniquo ha fatto giustizia essendo anche iniquo ma se quest'uomo anche se non voleva dargli i pani gli ha dati lo stesso e sono persone malvagie ma voi immaginatevi voi ma mettiamoci davanti al Signore è giusto è santo è buono ma quando noi domanderemo qualcosa con insistenza al Signore ma egli non ce la darà se è per il nostro bene ma di che cosa dobbiamo dubitare ma se anche le persone malvagie danno abbiamo visto che danno le cose che gli vengono chieste fanno giustizia o provvedono il pane ma quando mai il Signore che è giusto e buono il nostro Dio se gli chiediamo qualcosa con insistenza ma quando mai egli non ce la può dare non ce la dà e attenzione non è che ci darà qualcosa che ci farà del male come ha detto Gesù se voi siete malvagi e sapete dare buoni doni ai vostri figlioli tanto più il Padre Celeste vi darà buoni doni no? quindi quello che Dio ci darà anche quando ci dà la sofferenza badate bene ci fa male ci fa piangere ma è così ma serve quello quando serve quello il Dio ci dà quello perché ci fa del bene non ci fa del male il nostro Dio e noi dobbiamo avere questa pienezza di convinzione dentro di noi che quello che Dio ci dà magari stiamo soffrendo ci perseguitano ci schiacciano ci pressano non siamo tranquilli perché ci fanno la guerra ma vuol dire che è per il nostro bene perché il Signore ci sta mettendo alla prova ci sta fortificando perché il Signore non ci dà delle cose che sono per il nostro male capite? egli non può darci qualcosa che è per il nostro male ai suoi figlioli non gli dà i serpenti o gli scorpioni non glieli dà certo la sofferenza può arrivare ma è per il nostro bene vuol dire che il pane che dobbiamo mangiare in quel momento è quello quindi non dobbiamo mai pensare che Dio abbia perso il controllo della situazione non dobbiamo pensare che Dio ha permesso che accadesse qualcosa nella nostra vita che è per il nostro male no non è possibile non è possibile perché Dio non è malvagio capite? non è possibile che Dio sia cattivo sia malvagio e Dio è buono e lo fa per il nostro bene anche quando ci fa soffrire e ci sono delle perseguzioni contro di noi o quando soffriamo delle ingiustizie e Dio lo permette per metterci alla prova per fortificarci per renderci più forti capite? come anche la sofferenza ha forgiato anche Gesù la natura di Gesù che era umana quando è venuto sulla terra anche lui diciamo ha imparato dalle sofferenze che ha patito e tanto più noi se noi vogliamo assomigliare a Gesù anche noi dobbiamo passare per quel cammino per quel cammino di sofferenza in cui è passato anche Gesù chi più chi meno chi da giovane chi da anziano chi a metà a metà vita a metà strada però sappiate che Dio ci dà quello di cui noi abbiamo bisogno noi dobbiamo rimanere fedeli dobbiamo cercare il Signore del continuo per per alla fine afferrare fare la vita eterna perché il premio finale comunque alla fine è la vita eterna considerate la vita eterna non stiamo parlando di un anno dieci anni di stare bene stiamo parlando di una vita eterna nella gioia e nella pace col Signore e quindi dobbiamo fare di tutto per afferrarla dobbiamo fare di tutto tutto mettere in atto ogni forza ogni violenza che la scrittura ci permette di mettere in atto per ottenere tutto quello che Dio ha preparato per noi quindi dobbiamo impegnarci fratelli e sorelle ci vuole impegno non si può prendere le cose alla leggera qui ci vuole impegno ci vuole impegno severo ci vogliono degli orari ben precisi ci vuole la determinazione alzarsi presto la mattina e pregare leggere le scritture andare a lavorare tornare pregare leggere le scritture frequentare i fratelli e andare a trovare i fratelli se è possibile sono vicini pregare con i fratelli partecipare al culto se c'è possibilità di andare a un culto sempre con i fratelli c'è bisogna darsi da fare non c'è spazio per il mondo non abbiamo tempo non c'è materialmente il tempo per dedicarsi ai piaceri della vita perché questi piaceri della vita avvelenano e soffocano la parola la verità la soffocano e quindi non c'è spazio per queste cose ecco perché ci dobbiamo santificare e rigettare lontano da noi tutte quelle cose che ci distraggono dalla comunione fraterna e dalla comunione con Dio quindi vedete fratelli chiunque guardate cosa ha detto Gesù chiunque chiede riceve se tu non chiedi non ricevi poi come ha detto Giacomo voi non ricevete perché non domandate quindi la cosa più importante è che bisogna chiedere ma non solo chiedere con insistenza e con forza e con pienezza di convinzione perché questa forza poi abbiamo visto che manifesta la fede che abbiamo in noi la pienezza di convinzione e la forza con cui noi andiamo a Dio in preghiera manifestano la fede quindi perché voi sapete che senza fede è impossibile piacere a Dio quindi ci vuole la fede e la fede si vede attraverso le opere quindi le opere le dobbiamo compiere i credenti devono compiere le opere perché dalle opere si vede la fede che ha chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia talvolta quando si picchia non si picchia una volta sola perché bisogna picchiare fino a quando non viene qualcuno ad aprirci è questo il senso bisogna picchiare la porta del trono della grazia fino a quando non viene qualcuno ad aprirci con insistenza quindi bisogna insistere fratelli bisogna usare quella forza quella violenza positiva naturalmente non negativa per mettere in atto tutto quello che la scrittura ci dice di fare quindi armiamoci quindi di questi pensieri di questo pensiero che dobbiamo insistere davanti al Signore perché il Signore alla fine poi ci darà più di quello che noi domandiamo ci darà di più non ci darà neanche solo quello che noi domandiamo ma ci darà di più perché tutto è nelle sue mani ogni cosa è nelle mani dell'iddio vivente noi viviamo la vita per metterci perché Dio ci mette alla prova viviamo questa vita quello che ci succede ogni giorno è perché Dio ci sta mettendo alla prova ci sta facendo fare dell'esperienza quindi dobbiamo stare concentrati e in comunione con Dio e questa era l'esortazione che volevo darvi che avevo il cuore di darvi questa sera a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amin a Dio